In questo caso la nostra giudice deve avere la capacità di prevedere quelle che sono le potenzialità di crescita di questi soggetti. Ma non sono già grandi quelli? La nostra giudice selezionerà... Qual è il tuo? La mia è la che il Pinano. Questo qua mi sembra grande. Prevedere il Pinano. Eh, infatti. Prevedere il Pinano. I veri piccoli. Prevedere il Pinano. Prevedere il Pinano per il Cocker inglese. Quello vuole dire anche quanto tempo hanno. Prevedere il Pinano per il Pinano per il Pinano per il Pinano per il Pinano.